Altre nubi si addensano sul futuro al Manchester United di Wayne Rooney, dopo che il centroavanti è stato fatto partire dalla panchina nella super sfida di Champions al Real Madrid di Mourinho. Sembra che fra il tecnico e il giocatore ormai non ci sia più empatia e quindi il 27enne inglese potrebbe pensare a un domani altrove. Secondo alcune fonti d'oltremanica, il Manchester United sarebbe addirittura disposto a liberarsi dell'attaccante per appena 25 milioni di euro. Il nazionale inglese vanta ancora due anni di contratto dopo averlo firmato per cinque anni nel 2010, anche se l'accordo giunse dopo alcune sue pubbliche critiche alle ambizioni del Red Devils. All'epoca si fecero avanti gli strarivali cittadini del Manchester City, che però al giorno d'oggi non sembrano più interessati come qualche anno fa. Rimarrebbe il bulimico Paris Saint-Germain, ma anche gli emiri del Qatar potrebbero frenare davanti all'immenso ingaggio di Rooney, il quale vedremo se sarà utilizzato dal primo minuto nei quarti di finale di FA Cup contro il Chelsea domenica prossima.